La tensione è a piegare, domenica, la tensione è a piegare Non è che va più forte Bura, facci il commento L'obiettivo è fare perdere Zaffa Ok Ragazzi, commenta un po' La tensione è alle stelle, un buon Milan Ragazzi, io inquadrerei il cospito Beh, ora Come? Come? Dici qualcosa prima della gara Siamo alla Dior Celibate I ragazzi ancora non hanno provato un carico Ecco Zaffa che mancava il commento pre-gara Se sei certo, tieni aperto Ma cambia Grande Zaffa Prospettive Zaffa Cosa ci aspettiamo? Almeno il podio? No, andiamo a fare bella figura Podio, podio Zaffa Il tiro si è sbilanciato Si è sbilanciato al podio E allora si La prima batteria serve per cari tempi Quindi sono proprio l'entrata D'accordo? E prendiamo i teci La seconda batteria mi mettevo giù l'importanza in base ai tempi che avete fatto Ok? È una gara In base a come passate sotto la bandiera a scacchi Mi metto giù la finale Come gara 1 e gara 2 Sono 8 minuti di prova libre Guarda Bula come continua a scrutare la pista perché Ci possono stare anche le sfortellate Zaffa Zaffa Se vuoi che mi diventa Maschè non ci preoccupare Cioè Non è che tu mi avvisci un rettigno No ma se li apri a tutti E non posso Aspetta Non ho capito cosa sono Perché? Perché non hai capito? Adesso Bula Tino Tino Commento? Bula Paga 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 Commento E Patuo Se trova Valentino e Massimo Ho superato l'ultima curva Mattia Mi fa male in borsa Un bel commento Paglucchiato Scaldato Il segreto è non frenare mai Andiamo Andiamo dal vincente Zaffa Non lo so Zaffa Commento Posso fare meglio Non può scarsi Ci aspettiamo meglio Oltre ai cappellini Le magliette Il tipo di datente Erano anche qualche gadget Da regalare Quindi approfittatene Potete di gustare la giornata Insieme a noi Ci è andata che Non è un'unica In Italia Non è un'unica 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 Primo Ice Barber Del camionato italiano Di Taccatori Ma io non sono quello bello Lui è quello bello Con la voce bella Io sono quello bello Con la voce brutta Perché se io sono quello bello Come sono messi Come sono messi Allora Che ci sono i suoi E' lo bello Peccato 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 Per la vita Assoluto Caro Sì, assolutamente grazie, grazie mille a voi di venire in esistere, fuori, per chi puoi dare un po' di testo, e grazie a voi, batterie fuori, BCC che sarebbe in banca, parole ma no, io ho due salvelle, quindi almeno due chili ho guadagnato, se posso perdere, perché stavo avrò l'articipato, ok, ora è il tempo necessario per gli arredi. No, mi sei Mauro, eccolo qua, il podio ragazzi, il podio, dov'è il podio? Volevo dire che sono stanco, devo essere considerato di fare il solito di tutti, in questo paese di mierda, in Italia, mi sono rotto le cojones, mi hanno trovato il mio paese, perché non sono il benvenuto? Eh, per favore. Odio, il terzo del podio. Che non so, io sono terzo. Sì, il terzo. Ah, grande. Siamo pagani. Cosa ridete cosa, cazzo? Questo verrà messo alla cazzo, veramente. Alla cazzo, cazzo. Microfibra qua. Cosa riprendi che cosa, cazzo? Cazzo. Cazzo. Ciao sbamba. Un'altra cosa, ma in tutto quello sproloquio, il bibolo lì, cosa ridete cazzo? Ni ho mai fatto una domanda? No. Iniziate il tempo. Nessuno gli ha detto niente. Ah, dietro. Mi ha detto la partita, cosa ridete cosa? ma anche quello dell'Umberto non andava più del mio anche il suo finchietto ho tenuto a tagliarti la strada bene poi dopo basta eh sì sì era lì questa cazzetta di calca finchietti scorretto scorretto sono ma è un po' Pagani non l'ho fatto scorrettezza con Pagani lo chiudevo vabbè voglio far superare Cristo io c'avevo paura quando c'era concordato la sorpassione è figa non è che lo dovevano lasciar passare ma non gli ho fatto scorrettezza a stare qui gara di figa ma quello ci sta riprendendo però guarda stavano guardando queste tipe questo è il minuto ma no ma no ma no ma no ma no ma no Zaffa è teso oh basta sta cazzetta di calca commento commento di Zaffa sta telecamera qua che non t'ho fatto scorrettezza ti chiudevo ma non è che lo buttavo fuori però quello che sto dicendo io il bello ragazzi vista da fuori secondo me Zaffa è merda non c'è tecnica il bello è che si non persi coglioni ma senza buttarsi fuori come diceva Paolo no allora ne hai eliminati due e li vinto stranamente eh fu un bello fatto un po' di sportellata ah eh sono fuori gli altarini adesso sono diverso in gara 1 raccontiamola tutta le vera erano concessi le sportellate raccontiamola tutta raccontiamola tutta l'obiettivo era far vincere ma no ma io non ti hai sempre di esagerare con la telecamera no Zaffa mi ha ripreso pochissimo mi ha ripreso la boccuccia che teso guardate che boccuccia sta per esplodere sta per avere no allora se devo dire la verità secondo me quello che facevano i curve migliori dut era fuga si fuga da fuori davvero da fuori fuga secondo me ti faceva tra il vero e perfetto quindi quindi c'era qualcuno meglio di Zaffa quindi Zaffa non era migliore come me io ho una soluzione per fuga perché facevano i curve migliori perché era sempre lì da solo bastardo poi intanto si girava che guardava mattia 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 è andato a scuola già a Renzo secondo me in quarta è parito in quarta vedi in quarta su ma no vabbè almeno magari scappare è vero ragazzi l'avete fatta ragazzi fate senza ci facciamo più tornare che schifo fuga l'avano ci fatto un panino da cagare cazzo è quello là quello giusto guarda è molto molto facile guarda 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 come crescono ecco le uno ecco le uno ecco le uno ecco le uno questa paglia alla radice ecco questo è una però guarda qua l'altro l'altro qua guarda qua e non altro sono attaccate le carri attenzione ecco qua due bottiglie ottima annata lugene vino lugene tanto si sposa il coglione è forza prese prese e ride pure cazzo e ride pure cazzo forever sono i spettatori che paga per tutti cazzo cazzo 12 anni 24 allenatori cazzo sarà mica sempre l'allenatore che deve pagare sempre l'allenatore e i tifosi diano una mano alla squadra oggi invece di contestarla che sono giovani no 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 calma e ridono cosa ridete cosa vi divertite a scrivere cosa cosa ridete abbiate rispetto della gente con voi bisogna dire bugie e fare i ruffiani come quei tifosi io non lo sono ok io guardo tutti in faccia tutti dal primo all'ultimo perché sono serio cazzo vado a lavorare con serietà 24 no no palo io parole parole di che cazzo dopo 4 mesi che giochi a calcio sparole sparole ma fatemi un piacere dai su cazzo la vita e domande dai cazzo sempre dai cazzo e la pubblico e qua e là e si lavora lasciate il mister Baridoiani ringraziate il mister Baridoiani ringraziatelo cazzo una brava persona e aiutatelo mister Baridoiani cazzo prega per lui non contestarlo il pubblico cosa contesta che è il pubblico cosa vuoi contestare cazzo cosa contesta Baridoiani ma dopo se se ne va vedremo dopo cosa succede cazzo cosa contestiamo Baridoiani qua ma dai su figa basta basta che si vede il figo